Gli abitanti della città cercarono di far credere ai predoni di essere già stati graziati da altri, accendendo fuochi nelle vie, nelle piazze e anche sui tetti. Il trucco riuscì e il senato della città fece voto solenne a San Benedetto Revelli di ricordare in perpetuo il miracolo. È così che siamo qui questa sera. Il rione Pantan apre i festeggiamenti con la tradizionale cascata di fuoco. Ci scuseranno gli abitanti della via se terremo la musica un pochino più alta e anche i nostri fuochi brilleranno un po' di più questa sera perché deve sentirci e deve vederci un amico, Ivan, che è lontano, ma noi nei nostri cuori ce l'abbiamo sempre. Buon divertimento! State sotto ai portici, non uscite dalla linea dei portici, non oltrepassate le transenne. State sotto ai portici, non state sotto ai fulgari. Grazie. Grazie a tutti